salve a tutti amici di crypto jam e benvenuti a un nuovo video oggi andiamo a parlare di galaxies che sta per essere lanciato questo è il token di uno dei nodi che avevo proposto mesi fa e che adesso ieri ho fatto anche un video parlando dei calcoli che ho fatto su questo nodo su quanto potrebbe essere l'aroi quindi il ritorno sull'investimento insieme ad altri nodi quindi vi consiglio di andare a vedere questo video che ho fatto proprio ieri parlando di questi tre nodi in cui faccio proprio i conti davanti a voi faccio vedere quanto guadagnano alcuni nodi che al momento stanno rilasciando token e hanno un valore e quanto questo galaxies note può guadagnare quindi andiamo a vedere dove sarà lanciato adesso vi faccio vedere la piattaforma sul quale ci sarà il lancio e quindi si potrà anche poi prelevare allora come vedete qui abbiamo l'annuncio ok che sarà su bybit ok quindi hanno fatto questo accordo con bybit sul quale lanceranno la il loro token allora oltre a questo hanno introdotto altre cose tra cui lo staking che adesso andiamo a vedere quindi già nella piattaforma chi ha il nodo può vedere lo staking e abbiamo anche come partecipare se andate a vedere la parte questa qui troverete che si può partecipare anche a un IDO in cui fanno uno snapshot e poi c'è una premiazione ovviamente non è sicuro di vincere per una specie di lotteria in cui si può partecipare c'è lo snapshot ancora per un paio di giorni e c'è un time period locked come vedete qui quindi andate a leggere qui questa è una lotteria quindi non è assicurato la vincita e da come possiamo già constatare andiamo a vedere il prezzo di lancio poi facciamo due calcoli il prezzo di lancio sarà di 0,003 ieri nel video ho fatto sia il conto su 0,03 che su 0,2 come pensavo io quindi come vedete questo sarà il prezzo di lancio che al momento se andiamo a rifare i calcoli che ho fatto vedere ieri durante il video quindi allora se guardiamo l'excel che abbiamo visto insieme l'ora è adattata a quanti token vengono dati e l'ora è adattata anche al prezzo il valore del token giornaliero che quindi questo è daily ok quindi questo è giornaliero quindi mensilmente sono 14% il 2% mensile 2.4% mensile il 29% annuo allora questo però è sul lancio ok sappiamo che molti di questi token dopo il lancio ovviamente hanno performato bene e comunque il prezzo di lancio a parte che appena lancio di solito va subito su abbiamo visto anche con xai il prezzo di lancio era sui non mi ricordo qualche centesimo e poi è arrivato fino a 2 dollari e poi è sceso giù a 49 centesimi poi è tornato di nuovo verso i 2 dollari quindi ci sono queste oscillazioni il mio price target è quello di 0.5 in questo caso come vedete questo è il mio price target che potrebbe arrivare nel bull market e come vedete in caso dovesse arrivare al mio price target sarebbero 7.5 dollari al giorno per un valore mensile di 225 ok quindi un 37% mensile è un 450% annuale ovviamente questo sulla base di vecchie cose che ho visto lanciare quindi vecchi token trova del genere ovviamente niente è sicuro potrebbe non arrivarci mai quindi ovviamente prendete come buono anche la locazione attuale che comunque come diciamo a 0.03 come vediamo avete un 27% annuale ok quindi dovete un attimo capire se questa è una cosa che volete rischiare o no io quando ho comprato il galanod il mio ritorno sull'investimento era pare a quasi nullo perché avevo pagato 5k al nodo e il ritorno mensile erano veramente pochi centesimi si parlava di 1 2 3 4 5 euro però credevo nel progetto e poi ovviamente è andata come è andata sono arrivato a prendere fino a 10k al mese dal galanod al suo all time high di 70 60 centesimi adesso sono circa sui 700 800 al mese con gala dipende dal prezzo mi aspetto che nel bull market arrivi molto di più stessa cosa con playable playable appena l'ho preso i primi quasi due anni parliamo quasi due anni di attesa prendevo veramente pochi centesimi parliamo veramente di una miseria per quasi un paio di anni e poi esploso ed è arrivato a ovviamente adesso a fino a 700 anche gli 800 mensili circa con un possibile high fino a 1300 dollari quando è arrivato su all time high questo perché io comunque ho 5 nodi di playable che ho comprato in compound con le cose quindi ovviamente quando investite in queste cose non aspettatevi subito il pump della vita dovete studiare il progetto io ho fatto due video per parlare di questo progetto e far capire un po cos'è è uno dei pochi nel suo genere quindi parla praticamente se andate a vedere anche qui vi lascerò il link per in caso volete prendere il nodo o volete andare a vedere il progetto questo è parla di cosa parla praticamente di community decentralizzata quindi in caso un artista vuole fare una community decentralizzata può usare questa piattaforma il team è super formato il team è super serio quindi una delle cose che mi piace il team perché sono le persone reali che stanno dietro al progetto oltre a tutte le belle parole che vediamo in molti progetti vedere cosa fa il team effettivamente e chi è il team effettivamente da un diciamo un push in più anche di fiducia per quanto riguarda il lungo termine io quando ho anche un vestito in gala mi piaceva molto il team il fondatore di gala aveva esperienza nei giochi prima aveva creato due giochi di mobile molto famosi e quindi mi sono fidato soprattutto del team diciamo che il team per me era una componente quasi l'80 per cento della mia valutazione quindi in questo caso andate a vedere anche i video di cui ho parlato in precedenza anzi sono andato a vedere il video di ieri però se vedete se venite qua praticamente qua parla un po del team di cosa ha fatto il team del creatore alcuni dei top contributi contributori andiamo a vedere questo il creatore praticamente come vedete e quindi lui ha una vasta esperienza questo è il team al completo quindi potete andare a vedere anche il loro linkedin si è andata a schiacciare quindi si vedono nelle facce cosa almeno buona perché in molti progetti non vediamo neanche chi ci sta dietro però questo è il progetto andatelo a studiare prima di investire prima di fare delle valutazioni come ho detto è il primo nodo che parla di community di solito sono tutti sul gaming abbiamo visto alcuni sulle ai di qui uno ho parlato anche ieri uno dei miei preferiti a questo è l'unico che ho come nodo per quanto riguarda la community quindi ovviamente tanta pazienza un altro nodo che ho comprato per quale ho avuto molta pazienza è stato il music nod che per quasi anche quello due anni prima dell'investimento ho visto zero zero perché non è stato lanciato il progetto quindi ho investito prima che il progetto venisse lanciato adesso sono intorno ai 350 dollari al mese di passivo ok sono arrivato quando ha fatto il suo mega pump fino a quasi 700 al mese quindi come vedete questi sono più o meno i prezzi sui quali si aggirano se state dietro a questi progetti non vi fanno guadagnare milioni però 700 da una parte 600 300 400 500 da una parte a fine mese comunque ti porti a casa 567k questo ovviamente come ho detto una strategia che dura da anni non è una strategia che ho fatto in un giorno un'altra delle cose che hanno introdotto è stato il loro lock stake quindi potete fare lo staking dei token allora questo è variabile ragazzi perché praticamente più gente fa staking più questo calo ovviamente sentate all'inizio vi dà molti di più io ho fatto un po di staking ho messo un po in stake però solo per tre mesi per provare tanto comunque se questi prossimi tre mesi sono sono così bullish come penso posso tenerli metà ho messo tipo un 30 per cento di quello che avevo in lock e poi potete fare anche lock del vostro nodo se volete quindi potete mettere sia lock in nodo il nodo vi dà anche un 1.2 fino a 1.5 fino a 2 2x di ritorno quindi come vedete qua due xpr 1.2 engine boost come vedete se lo fate per tre mesi sono 175 quando l'ho messo io erano 250 sei mesi 263 o tre mesi 351 quando l'ho messo io quando l'ho visto io la prima volta questo era 500 quindi ovviamente se questo va giù non prendetevi male e semplicemente perché molta gente mette in staking che è una cosa buona perché più gente mette in staking meno pressione di vendita ci sarà sul token quando sale ok quindi se tutti mettono 12 mesi e fra sei mesi questo token fa un 5 6 7 8 x puoi vendere invece molti sono ancora lock e ovviamente preferisco vendere molta parte perché io comunque faccio sti swing trade sui miei token in senso quando ho un'allocazione buona vendo li compro vendo li compro essendo che so come fare swing trade quindi accelero un po a questa componente però essere sinceri 350 e tantissimo ok di solito quando è 3 4 5 6 10 per cento non lo metto perché riesco a fare molto di più però 350 12 mesi se dovesse durare nei prossimi 12 mesi ovviamente nessuno sa il futuro non è una brutta allocazione ok quindi a questo per quanto riguarda il lancio a mio parere questo è un progetto vedendo il team e il resto che ha molte potenzialità ovviamente nessuno ragazzo sa niente come ho detto quando sono andato in gala sono andato in playable in gala music in tutti questi nodi in agi c'è tantissimi nodi entro alla cieca perché non so quanto farò però faccio una ricerca approfondita del team del progetto e dico ok metto i miei soldi in questo progetto perché ha senso oppure se è speculativo non pago più di top per esempio alcuni nodi 567k non li ho presi perché secondo me pagare quelle cifre è un po troppo a meno che non valgono veramente quello che per esempio danno oppure le prospettive future per esempio agino che valeva 2200 a me piaceva tantissimo secondo me era un buon prezzo per quello che ti dà il token come ritorno e per le prospettive future altri token che adesso costano 567 mila in verità non mi danno grandi cioè l'aroi non è molto buono rispetto al rischio che prendi ma quando si paga 1600 200 300 400 questi sono solitamente i miei punti di entrata il massimo che pagato è stato 5000 quello di gala da lì in poi ho sempre pagato sui 2k massimo 3k i nodi però delle eccezioni particolari però solitamente intorno ai 1000 dollari questi sono i miei punti di entrata per riuscire a fare un buon disc reward comunque questo ragazzi è tutto per quanto riguarda il lancio in senso il lancio sarà il 10 e quindi si potrà ritirare dalla piattaforma mandarlo su bybit oppure vendere semplicemente off chain quindi on chain quindi sulla rete di polygon quindi sulla rete polygon potete fare claim e da lì poi potete venderli direttamente sulla rete che sinceramente la rete polygon non costa tanto quindi in verità non ci sarebbe molto diciamo necessità di mandarlo su un exchange per esempio quando c'erano dei token o delle cose su ethereum e costava tantissimo ethereum soprattutto quando c'erano i lanci ethereum tutti provano a vendere ti costa tantissimo vendere in più non prendi mai il prezzo che vuoi li mandavo su bybit in questo caso non penso manderò niente su bybit perché non mi serve in senso sulla piattaforma e se il prezzo di lancio rimane quello non va su di tanto non penso di vendere se vedo che da lì fa tipo un 10x nel giro di un giorno tot ovviamente venderà una parte comunque altri aggiornamenti prima del lancio appena sono un po di più su altre cose su una restrizione qualunque cosa per il momento è tutto ragazzi spero vi sia piaciuto questo video di aggiornamento sul prezzo e tutte le cose e ci vediamo al prossimo video